Ti sei mai sentito solo lungo il sentiero del risveglio spirituale? Hai mai notato che alcuni amici sembrano allontanarsi mentre cerchi di abbracciare la tua autenticità? E cosa succede quando inizi a valutare la qualità delle tue relazioni rispetto alla quantità? Se queste domande hanno risvegliato la tua curiosità o risuonato con la tua esperienza personale, continua a seguirci. Potresti trovare la chiave per una comprensione più profonda del tuo cammino spirituale. Scopriamo insieme perché alcuni di noi devono perdere per trovare la vera connessione. Prima di addentrarci appieno in questo importante tema, ti invitiamo a lasciare un tuo commento riflessivo sull'argomento e un like se il video si rileverà di tuo gradimento. Anche se il tuo percorso spirituale può portare molti cambiamenti positivi nella tua vita, c'è un aspetto sfidante che potresti incontrare, la possibilità di allontanarti dagli amici. All'inizio potresti pensare che sia tutta colpa tua, dato che sei cambiato in modo significativo nel corso degli anni. È naturale credere che questo sia il motivo per cui sembrano prendere le distanze da te. Potresti fare del tuo meglio per tornare alla persona che eri prima, cercando di comportarti come il tuo vecchio io. Speri comunque che si sentano al loro agio con te ancora una volta? Arriverai a capire che non sei lo stesso individuo di un tempo. Fingere di essere qualcun altro semplicemente non risuona in te. Trattenere i tuoi veri pensieri solo per compiacere gli altri o per adattarti, non è un modo sostenibile o appagante di vivere. È essenziale per te rimanere onesto e fedele a te stesso, indipendentemente da ciò che gli altri potrebbero pensare. Impari che non hai bisogno di una vasta cerchia di amici. Preferisci invece avere pochi amici intimi che supportino la tua crescita personale e ti incoraggino ad esplorare la vita. Ecco i 5 motivi per cui stai perdendo amici durante il tuo risveglio spirituale. Stai diventando un nuovo te. Quando inizi un risveglio spirituale non stai solo cambiando, ma ti stai evolvendo in una versione di te stesso più connessa e consapevole. Pensalo come un bruco che si trasforma in farfalla. Questo cambiamento non consiste semplicemente nell'imparare cose nuove, ma nel vedere il mondo e te stesso in un modo totalmente nuovo. Si dice che la crescita sia dolorosa, il cambiamento sia doloroso. Ma niente è tanto doloroso quanto restare bloccati da qualche parte a cui non appartieni. Mentre cambi i tuoi interessi, le tue convinzioni e modifichi la percezione di ciò che trovi divertente, potresti iniziare ad apprezzare diverse attività o argomenti che non ti avevano mai interessato prima. Le battute che ti facevano ridere potrebbero non sembrare divertenti ora. E gli argomenti che trovavi noiosi potrebbero catturare la tua attenzione. Per esempio, qualcuno che si avvicina a un nuovo tipo di musica potrebbe iniziare a uscire con persone che condividono questo interesse, allontanandosi lentamente dai vecchi amici che non capiscono la tua nuova passione. Oppure, se inizi a goderti la pace che deriva dalla consapevolezza, potresti sentirti fuori posto con i tuoi vecchi amici che preferiscono ambienti più rumorosi e affollati. Non si tratta di dare la colpa, è semplicemente che i tuoi percorsi di vita si stanno muovendo in direzioni diverse. È una parte normale della vita che le amicizie vadano e vengano, proprio come le stagioni cambiano. Ciascuna persona ha il suo momento e significato nella tua storia. Alcuni sono lì per una ragione, altri per una stagione e alcuni, pochi per la verità, per tutta la vita. Un noto e saggio detto recita, lasciare andare non significa che non ti importa più di qualcuno. Significa realizzare che tu sei l'unica persona che ha davvero il controllo su te stesso. Man mano che cresci e cambi, potresti notare che anche la tua cerchia di amici lo fa. Non si tratta di lasciare gli altri indietro, si tratta di continuare il tuo viaggio. E talvolta questo significa che camminerai da solo o con nuove persone che corrispondono esattamente alla persona che tu hai scelto di diventare. Abbracci il tuo autentico sé. Una parte fondamentale del risveglio spirituale è diventare più autentico. È come scoprire il vero te che è stato nascosto sotto strati di aspettative sociali e fin anche una facciata che hai mantenuto per adattarti. Questo viaggio verso l'autenticità è liberatorio, certo, ma è anche impegnativo, soprattutto per quanto riguarda le tue amicizie. Nel momento in cui scopri chi sei veramente, potresti perdere amici che sono attaccati al vecchio te. Questo non indica che qualcosa non va in loro o in te. Significa semplicemente che i tuoi percorsi ora sono diversi. Diversi come due sentieri in una foresta e stai scegliendo quello che ti porta al tuo vero sé. C'è un detto, sii te stesso, tutti gli altri sono già stati presi. Questo è particolarmente vero durante un risveglio spirituale. Inizi ad accettare la tua unicità, i tuoi pensieri distinti e modi di essere che potrebbero non adattarsi nelle tue precedenti cerchie sociali. Questa divergenza non è un segno di fallimento, ma una testimonianza della tua crescita e onestà. Ricorda che la vera amicizia celebra la connessione autentica. Il festeggiare con amici che non riescono ad apprezzare il vero te non è una perdita, piuttosto è un chiarimento. Inizi ad accettare la tua unicità, i tuoi pensieri distinti e modi di essere che potrebbero non adattarsi nelle tue precedenti cerchie sociali. Fai spazio a coloro che entrano in risonanza con il tuo vero sé. Mentre ti evolvi, anche le tue relazioni si aprono a connessioni più oneste e gratificanti, aprendo così la strada a relazioni più autentiche e significative. Apprezzi stare da solo. Una delle intuizioni profonde acquisite attraverso un risveglio spirituale è imparare a valorizzare la solitudine. Questo implica rendersi conto che essere soli non equivale a sentirsi soli. Questa comprensione diventa particolarmente toccante quando ci troviamo alla deriva da alcuni amici durante il nostro viaggio spirituale. Abbracciare la solitudine non significa semplicemente stare da soli. Si tratta di creare lo spazio necessario per la crescita personale. Nel silenzio della solitudine vagliamo una profonda autoriflessione. diventiamo profondamente consapevoli dei nostri pensieri, comportamenti e della traiettoria della vita. Questa consapevolezza cresciuta è vitale per avanzare verso l'apice del nostro risveglio spirituale. Solo la quiete dell'essere offre rinvigorimento, permettendoci di riprenderci dal clamore incessante e dalle richieste del mondo esterno. Essa sola diminuisce lo stress, facilita la respirazione e ringiovanisce la nostra energia. Ma tenere di conto la solitudine va oltre il semplice godimento della propria compagnia. E si raggiunge un punto in cui apprezziamo e capiamo sinceramente noi stessi. Quando perdoni i tuoi errori passati e accetti il tuo vero sé, inizia ad apprezzare la solitudine. Questa accettazione di te stesso e questa compassione rendono la solitudine non solo tollerabile, ma genuinamente piacevole. La solitudine diventa un'opportunità d'oro per l'automiglioramento e per una più profonda scoperta di sé. È un'opportunità per coltivare i tuoi interessi, le tue passioni e i tuoi talenti, simile ad uscire con te stesso per esplorare le tue preferenze, le tue avversioni, i tuoi punti di forza e le tue aree di crescita. Mentre ripari la solitudine interiore attraverso l'allontanamento, la tua prospettiva sulle amicizie si trasforma. Non cerchi più la compagnia semplicemente per evitare la solitudine. Invece, desideri connessioni che siano significative e profonde. Le tue amicizie si evolvono per concentrarsi sulla qualità piuttosto che sulla quantità. Cerchi relazioni in cui puoi apertamente condividere i tuoi pensieri più profondi, paure e sogni senza timore del giudizio. Questi tipi di connessioni potrebbero essere meno comuni, ma offrono una ricchezza e un appagamento che non hanno uguali. Non cerchi di compiacere gli altri. Un momento cruciale nel tuo percorso spirituale è quando riconosci la diminuzione del bisogno di compiacere gli altri. Questa trasformazione segna un allontanamento dalla ricerca dell'approvazione esterna per onorare il proprio se autentico. Si tratta di allontanarsi dalla pressione sociale per conformarsi e piacere e vivere in modo sincero e libero. Molti di noi si sono ritrovati a interpretare il ruolo delle persone più gradite, modificando le nostre opinioni, calmandoci, cambiando persino chi siamo per adattarci. Ciò non di meno, mentre viaggi più in profondità nel tuo risveglio spirituale, arrivi a vedere questa ricerca di convalida esterna come futile, simile a inseguire un'illusione. Ciò è prosciugante e alla fine ti porta più lontano dalla tua vera essenza. Mentre abbandoni la ricerca di approvazione, potresti notare che alcuni amici che erano abituati alla tua natura accomodante iniziano ad allontanarsi. Questo cambiamento non è una misura del tuo valore, ma un'indicazione che queste relazioni erano basate sul fatto che tu ricoprissi un ruolo specifico. Abbracciare la tua autenticità porta un senso di liberazione. Il peso di prestazioni costanti aumenta e le tue interazioni e relazioni acquisiscono profondità. Inizi ad attrarre e sviluppare relazioni con coloro che apprezzano e amano ciò che è vero e non adulterato. Scegliere l'autenticità rispetto al piacere delle persone significa trovare soddisfazione e sicurezza di sé dall'interno, piuttosto che fare affidamento su fonti esterne per la convalida. Questo cambiamento è liberatorio, permettendoti di vivere una vita fedele a te stesso senza lo sforzo estenuante di essere tutto per tutti. Superare la compulsione a compiacere è un risultato significativo nella tua evoluzione spirituale ed implica abbandonare la maschera del conformismo per rivelare e accettare il tuo sé genuino. Questa transizione non solo promuove la pace interiore e l'accettazione di sé, ma getta anche le basi per connessioni più autentiche e significative. Dai valore alla qualità rispetto alla quantità. Mentre avanzi ulteriormente nel tuo percorso spirituale, potresti notare che il tuo gruppo di amici si sta riducendo. Ad ogni modo, questo non è qualcosa di cui piangere. È un cambiamento significativo verso connessioni più profonde. Gli amici che restano al tuo fianco sono quelli con cui condividi un legame profondo e genuino. Questa evoluzione, dalla ricerca di numerose amicizie a coltivare alcune relazioni significative, è una parte cruciale della tua crescita spirituale. Questa metamorfosi consiste in un cambiamento delle tue priorità riguardo alle relazioni. Le connessioni superficiali o fugaci perdono la loro attrattiva, venendo sostituite da un desiderio di interazioni che vanno oltre la superficie. Queste tipologie di connessioni potrebbero essere meno comuni, ma offrono una ricchezza e un appagamento che non hanno eguali. In questo viaggio scoprirai che questi legami più profondi forniscono un livello di empatia e comprensione precedentemente mai raggiunto. Sono gli amici che ti sostengono incrollabilmente, incoraggiano la tua crescita e gioiscono dei tuoi successi come se fossero i loro. Questi rapporti trascendono la semplice amicizia. Questi rapporti sono connessioni dell'anima. A tal uopo è essenziale capire che quando alcuni amici si allontanano non è un rifiuto, ma un riallineamento del tuo cosmo sociale. Si tratta di creare spazio per relazioni che riflettono la tua crescita e le tue aspirazioni. Mentre ti evolvi, anche le tue relazioni attraggono e mantengono coloro che corrispondono alla tua frequenza e valorizzano la profondità che porti nelle loro vite. Quando inizi a cambiare a causa di un risveglio spirituale, è normale allontanarsi da alcuni dei tuoi amici. Questo cambiamento fa parte della crescita e del diventare una versione migliore di te stesso. Ricorda che va bene continuare a preoccuparti dei tuoi vecchi amici e fare tesoro dei ricordi che avete creato insieme. Non devi sentirti arrabbiato con loro semplicemente perché ti sei allontanato. Ognuno è diverso con i propri tratti speciali e gli amici che non seguono un percorso spirituale sono comunque importanti. Aggiungono varietà alla nostra vita e ci aiutano a mantenere le cose in equilibrio. La cosa emozionante è che, col passare del tempo, alcuni dei tuoi vecchi amici potrebbero anche sperimentare i propri risvegli spirituali. Quando ciò accade, potrebbero arrivare a capirvi meglio e potreste ritrovarvi a riconnettervi ad un nuovo livello. Siamo certi che tu abbia seguito questo significativo argomento fino alla fine e che esso abbia risuonato potente nel tuo spirito. Se non lo hai ancora fatto, ti invitiamo ad iscriverti al canale per non perderti i nostri prossimi contenuti di valore. Ti auguriamo una luminosa e costruttiva giornata. A presto!